BGS BGS Technic presenta l'utile tubo ad aria compressa con avvolgitore automatico di qualità professionale BGS. Basta tubi sparsi in giro. Con questo avvolgitubo il tubo ad aria compressa si avvole automaticamente in poco tempo. La custodia è adatta per il montaggio a muro e può anche essere ruotata lateralmente. L'avvolgitore automatico si ferma, può essere srotolato tirando rapidamente tubo in PVC. Coloro che lavorano con l'aria compressa non devono stare senza questo tubo ad aria compressa con avvolgitore automatico.